È stata firmata l'ordinanza regionale numero 50 che disciplina la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Da lunedì 4 maggio, infatti, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio, verranno alleggerite molte delle restrizioni introdotte per arginare il contagio da Covid-19. Alcune delle norme nazionali, però, possono avere restrizioni su indicazione dei Presidenti di Regione. Ed infatti, all'interno di questa ordinanza, la Regione consente l'ingresso e il rientro nel territorio regionale solo a chi ha qua il proprio medico curante, vietato dunque raggiungere le seconde case da parte di chi abita stabilmente fuori dalla Toscana. Marcia indietro, invece, per quanto riguarda gli spostamenti per l'attività fisica. Bene infatti consentito di raggiungere il luogo scelto con mezzi propri, con l'obbligo di restare nell'ambito regionale e di rientrare in giornata alla propria abitazione. Consentita anche la ripresa di alcune attività, tra cui, tra le altre, quelle di teolettatura degli animali. In linea generale, le misure che fino ad oggi limitavano gli spostamenti al solo territorio comunale, adesso vengono estese agli ambiti provinciali, come la possibilità di recarsi in supermercati fuori dal comune di residenza e, in alcuni casi regionali, come le attività agricole e materiali o la manutenzione di beni, come case vacanze, rulotto e imbarcazioni, che possono venire effettuate in tutta la Toscana, ma con l'obbligo di rientro al domicilio nell'arco della giornata.